È un luogo difficile l'hotspot, chi ci lavora dentro, ci sta dentro e entra in un'ottica di progressiva disumanizzazione, nel senso che spesso negli hotspot, non penso solo in questo, si attua un meccanismo di accoglienza molto automatico, stereotipato e alienizzante. Quindi chi arriva qua attraversa quell'inferno libico è vittima di maltrattamenti, di trattamenti inumani e crudeltà e quindi potenzialmente è una persona che sta molto male e molto spesso anche da un punto di vista psicopatologico ha bisogno di cure. L'arrivo in hotspot è un potenziale fattore di rischio per una ritraumatizzazione e l'inferno quindi potrebbe continuare all'infinito. Già da quando i migranti vengono soccorsi, per esempio sappiamo che a bordo delle navi vengono effettuate delle indagini, l'approccio che l'Europa e l'Italia stanno adottando, che è un approccio che mira soprattutto al controllo, all'identificazione, alla selezione dei migranti e alla ricerca tra di loro dei presunti scafisti. I presunti scafisti non sono altro che migranti che hanno attraversato una rotta dura, arrivati in Libia, attraversato l'inferno libico e nei connection point sulle coste ricevono una proposta degli smugglers, dei trafficanti in cui gli viene detto se tu prendi questo apparecchio cellulare, questa bussola e ti metti in nave, segui la direzione e quindi accompagni tutti gli altri in barca con te presente, come ti dico io, tu hai il viaggio gratuito. Quindi molto spesso gli scafisti degli ultimi 18-24 mesi sono queste persone, cioè dei migranti forzati che seguono una direzione che gli vengono date delle istruzioni in uno o due giorni nei centri di ammassamento sulle coste, quindi guidano per modo di dire una barca, un gommone senza competenze e quindi siccome poi gli altri ospiti della barca, gli atti migranti che vengono sposati con la barca vedono chi guida, la polizia individua questi presunti scafisti e cerca anche testimonianza. Quindi in una situazione di massimo stato confusionale, vulnerabilità, questo approccio che è l'approccio spot implementato da un anno sulle coste siciliane ma non solo, si ripropone poi nel momento dell'arrivo in banchina nei luoghi che poi sono deputati a queste identificazioni. La capienza massima è 180-200, però si arriva fino a 500, negli ultime settimane con succedersi degli sbarchi anche 600 persone. Vengono tenute queste persone in situazioni, in condizioni di promiscuità, cioè vengono mantenuti in una stanza minori insieme a donne, insieme a soggetti vulnerabili, insieme a famiglie, insieme a bambini. Sono due grandi stanzoni, il sovraffollamento apporta anche alla mancanza di spazi vitali di movimento per le persone. Sappiamo che il tempo di permanenza massimo all'interno degli ospoti è per tutti di 48-72 ore, ma questi tempi non vengono quasi mai rispettati. Avete incontrato dei migranti fuori dallo spot che hanno verbalizzato di essere qua da un mese e mezzo. I tempi raramente vengono rispettati, soprattutto nelle fasi critiche estive. Quello che si sta verificando, soprattutto all'ottosport di Pozzallo, ma non solo, è un trattenimento dei minori anche per mesi. Questo perché si fa fatica a trovare dei posti idoni dove collocare questi minori, a meno questa è la giustificazione che viene data dalle istituzioni e si crea questo paradosso per cui soggetti che non dovrebbero neanche transitare da una struttura del genere, vengono tenuti più degli altri, quindi minori non accompagnati, soggetti vulnerabili, ragazze minorenni che sono inseriti magari in altri percorsi di sfruttamento che avrebbero bisogno di un'assistenza più specifica, di idonea. Chi arriva all'off spot vede divise, gradi, talora armi, divise di tutti i tipi e quindi si blocca, non può dire, non sa dire e non sempre si fida di te. Per raccogliere anche il dolore e la sofferenza non è facile, bisogna fare piano, avere il tempo, proprio il contrario dei tempi forsennati dell'off spot. Questa situazione continua a ripetersi e viene sempre giustificata con l'emergenza, la mancanza di posti idonei disponibili, senza dire che questo è il primo posto non idoneo dove queste persone non dovrebbero stare.